Mi candido sindaco di Taranto con il movimento Taranto senza Ilva, trasversale ai partiti, né centrodestra, né centrosinistra, né Movimento 5 Stelle. Mi interessa dare risposte al cittadino, la vivibilità urbana. Non devono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B, cittadini abbandonati a se stessi. Ci troviamo a Lama, circonvalazione dei fiori, precisamente mi riferisco ai civici 33, 35 e 37. Vedete qui il manto stradale è stato rifatto, poi magari anche alcune volte sfregiato dai lavori realizzati dalle varie utenze, ma comunque è stato rifatto il manto stradale. Questo pezzetto, vedete questa traversa, che è un'area che fu dato in comodato dai privati al comune e però ora è una strada di competenza comunale, di pertinenza comunale, come appunto dimostra la presenza dei pali della pubblica illuminazione. Questo tratto di strada che, lo ripeto, è di competenza del comune, guardate in che stato disastroso e disastrato si trova. Cioè praticamente qui il manto stradale non esiste più, emerge terriccio, pietre e quant'altro, si creano proprio delle pozze di acqua, basti andare in fondo. Io mi domando questa strada, che lo ripeto ancora una volta perché qui non bisogna giocare sugli equivoci, è di competenza del comune di Taranto. Cosa ha fatto l'amministrazione Melucci in questi quattro anni e mezzo, in questi quattro anni che dice siano stati anni di rinascita? Melucci, tu dici di aver seminato la rinascita, cosa hai seminato qui? Fra poco escono le rane per l'acquitrino che si crea e tenete presente che qui, in queste villette, in queste abitazioni, ci sono dei disabili. Il disabile praticamente finisce per essere barricato in casa. Guardate qui, come fa a uscire di casa una persona in queste condizioni? Quando piove, ripeto, si creano le pozze d'acqua, si creano gli allagamenti. Questo è il risultato. Ma caro sindaco, ex sindaco Melucci, mi riferisco anche agli assessori, ai lavori pubblici che si sono succeduti nell'amministrazione Melucci. Signori cari, ma era così difficile, dopo aver asfaltato l'arteria, fare anche questo tratto di strada? E qui cosa ci sono? I figliastri rispetto ai figli? Quale colpa hanno questi poveri cittadini dei civici 33, 35 e 37 della circonvalazione dei fiori? Sono figli di un dio minore? No, la verità è una sola, che c'è superficialità quando si fanno i lavori. Non si ha l'intelligenza di dire guardiamo la strada, buttiamo anche l'occhio su un altro tratto, vediamo questa strada, è di competenza comunale, bene, tu comune devi intervenire. Non è possibile, il cittadino di questa zona paga le tasse. Quali servizi ha, signori cari? Lo ripeto, l'immagine di Melucci e l'insegna, il cartellone, stiamo seminando la rinascita? Penso che proprio questa rinascita non abbia nulla a che fare con questa zona, ma quale rinascita? Quale rinascita? Solo fumo buttato in faccia ai cittadini, ma i cittadini si ricordano, si ricordano del degrado in cui vivono, se lo ricorderanno al momento del voto. Per questo chiedo il consenso, Luigi Abbate sindaco con Taranto senza Ilva, tante battaglie fatte da giornalista, tante battaglie che farò accanto ai cittadini, da primo cittadino, non perché sia l'unto del Signore, ossia chissà chi, ma perché sono un uomo che vive e conosce la strada, un cittadino al fianco dei cittadini e lo sapete, io non faccio sconti a nessuno, ho il mio caratterino, sarò un sindaco di strada che darà risposte, poche volte in giacca e cravatta, molte volte a consumare le suole delle scarpe, un cittadino tra i cittadini.